Ciao a tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale fly high o bentornati. In questo episodio vedremo le attività del tempo libero, le possiamo chiamare anche passatempi o hobby senza aspirare la H da hobby, hobby. E le vedremo in tempo reale con me e James, faremo una dimostrazione e quindi parleremo di ciascuna di esse di tutte quelle attività che possiamo dimostrarvi qui in casa. E vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo velocemente o se parlo troppo lentamente premendo sulla rotellina in basso a destra del video. E oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Stiamo leggendo! A James piace leggere A me piace leggere Ci piace leggere E si può dire dedicarsi alla lettura E che cosa si può leggere? Si può leggere un libro, in questo caso James sta leggendo anche lui un libro Oppure si può leggere una rivista, per esempio Si può leggere il giornale Ecco, si possono leggere diversi tipi di materiale Questo è il disegno A James piace molto disegnare Lui adora, adora disegnare Io invece non sono capace di disegnare E non mi piace molto disegnare E sta utilizzando, James sta utilizzando una matita Quindi si possono utilizzare delle matite, dei pastelli Poi abbiamo qui anche degli acquerelli Ecco, e ci sono diversi, anche qui supporti Per appunto, per disegnare Allora James, ascoltiamo un po' di musica? Dai E a voi mi piace ascoltare la musica? Ditemi, fatemi sapere nei commenti Balliamo, dai, balliamo Oh, come on Balliamo? L'americano E sto cantando L'americano E a voi piace cantare? A me non piace cantare Non sono brava a cantare Ma ci provo James sta facendo dei giochi di parole Giochi di parole In questo caso è un puzzle Puzzle appunto in cui bisogna trovare la parola Ci sono anche poi le parole crociate Ecco E le fa ogni quanto Una volta a settimana circa Ecco Io non le faccio quasi mai invece Che stai facendo? Voglio io questa carta qui? Fammi prendere la carta Fammi Tiro giù una di queste Allora io Pesco una carta dal mazzo Come vedete stiamo giocando a carte Stiamo giocando alla nostra versione Alla nostra versione del 1 La prossima attività è Suonare il pianoforte In questo caso Non abbiamo un pianoforte tradizionale E ascolteremo James Che suona la tastiera elettrica James sta giocando ai videogame Sta giocando a Resident Evil 6 E vuole uccidere un po' di zombie E io non gioco mai ai videogiochi E non ho mai In realtà mai giocato ai videogame Ma James gioca meno Adesso gioca meno spesso Rispetto a una volta Quando era ragazzino Giocava praticamente tutti i giorni Per ore E a voi piace giocare ai videogame? Navigare su internet Allora James sta passando Parecchio tempo su internet adesso E sta passando di sito in sito E semplicemente In realtà trascorriamo La maggior parte della giornata Su internet Tra lavoro e Così come appunto Divertimento e passatempo Si passano parecchie ore Ogni giorno su internet E voi? Stiamo guardando un film La vita davanti a sé Che tra l'altro Vi consiglio Un gran bel film E in genere Guardiamo film Al venerdì O al sabato sera Perché ovviamente Non c'è tanto tempo Durante la settimana Grazie 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 Sto facendo un workout Un esercizio Sto facendo degli esercizi Per gli addominali Utilizzando YouTube Ovviamente E tutti i giorni Tutti i giorni Si mette a fare gli esercizi È una buonissima abitudine In realtà E io invece Sto facendo Pilates Come vedete Non ho L'abbigliamento Adeguato Qui Però Non volevo Cambiarmi Dato che stavamo Già facendo Questo video E In genere Ovviamente Indosso Leggings E Maglietta Ecco Non Non Jeans E Faccio Pilates Tutti i giorni A me piace molto E mi rilassa In realtà Mi rilassa proprio E mi fa sentire Poi in porna Poi Tutta la giornata Per essere in equilibrio Devo farli anche Dall'altra parte Con la gamba Altrimenti Mi sento Non Non molto Appunto Bisogna bilanciare Con l'altra parte L'altra gamba E poi si può studiare Anche una lingua Come per esempio James sta studiando Il francese Dovrebbe studiare L'italiano Però ecco Ha iniziato Francese Qualche anno fa E quindi Si tiene In esercizio E poi Appena iniziato Anche l'italiano Per il momento Sta facendo Cioè Ti Sta facendo Allegature Quelle di sera Ok Sta studiando La pasticceria In francese C'è fame E ha fame Io invece Sto facendo Tedesco Ce l'ho fatta Per oggi Ho conservato Il mio streak E voi ragazzi Quali attività Fate Nel tempo libro Quali sono I vostri Partatempi I vostri hobby Fatemi sapere Nei commenti E questo è tutto Per l'episodio di oggi Spero che vi sia piaciuto Che l'abbiate trovato utile Se sì Mettete un like E considerate Iscrivetevi al canale Così che non perdete Nessun nuovo episodio Allora vi auguro Una buona giornata Un buon procedimento Continuate a seguirmi E alla prossima Ciao 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 ciao